Perché purtroppo, se tutti i volti in giro, ahimè è uno stato d'animo che nella storia in Italia è stata una dittatura devastante, però purtroppo è un modo di interpretare la politica che tuttora, quindi in Grecia e in altri paesi, ha delle derive molto preoccupanti, per cui credo che la storia ci debba aiutare a non ripercorrere gli errori. È molto difficile, perché quando dici questa cosa subito senti che può avere una cosa retorica, perché in realtà l'uomo tende a ripercorrere sempre gli stessi errori. Però io credo anche che dobbiamo vedere le cose un po' in positivo, no? Penso se, non so, Martin Luther King invece di dire ho fatto un sogno, avesse detto ho fatto un incubo, non ci avrebbe aiutato, oggi forse Obama non sarebbe presidente, non si sa se lo rileggeranno, però è stata una cosa. Quindi in realtà, secondo me, è importante, non è retorico, riattaccarci e ribadire. Quindi bravi, complimenti per il lavoro che fate. Grazie a te.